I comitati di quartiere, dopo un anno e mezzo di pausa, ripartono a piccoli passi. Il vice sindaco Roccorino Mangini ha spiegato ai microfoni di Radio 00 che dopo il primo triennio di attività è stato necessario fermarsi, per valutarne criticità e piccole riforme, tra cui il nascente Focus Group. Una nuova possibilità per incrementare l'apporto della cittadinanza attiva, che si è presentata grazie al redigendo piano di protezione civile. In queste fasi decisive il vice sindaco è stato affiancato dagli ex presidenti dei comitati di quartiere, il vice presidente del forum delle consulte, Beppe Cazzolla, i consiglieri di maggioranza, Antonella Vaccaro, Maria Grazia Gesualdo, Massimo Lacetera, un consigliere di minoranza, Francesco Scauro, con i quali in un primo Focus Group si è discusso sul futuro di questa realtà. A questo gruppo si uniranno altri due consiglieri, oltre a quelli poc'anzi nominati, e cinque cittadini a cui è stato rivolto l'invito di autocandidarsi per e-mail, al termine dell'incontro in discussione. C'è stato un problema tecnico sulle e-mail, qui non sono arrivate delle e-mail, io ho scritto un post provocatorio, infatti ho provocato una reazione, invitando i cittadini, soprattutto quelli più attivi, a dare il proprio contributo in questa fase. Gli incontri del Focus Group saranno sospesi fino alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Al momento resta solo il forum pubblico dedicato ai cittadini, che si terrà il 31 luglio alle ore 19, nell'atrio della Biblioteca Comunale. In questa occasione verranno illustrate le finalità del Focus Group e i partecipanti sceglieranno i loro cinque rappresentanti per questo nuovo inizio. Sono tre opzioni per questo Focus Group. La prima è che riprendono i comitati, così come previsto dal regolamento, con le elezioni dei comitati di quartiere, quindi il secondo mandato. La seconda è che ci sia una piccola riforma dello strumento a livello organizzativo e quindi cambino un po' anche le procedure di elezione. La terza, che semmai è anche quella più sfidante, è quella di sospendere questo strumento e finalizzare l'azione alla formazione della cittadinanza attiva. Saranno molto importanti le decisioni che verranno prese nel forum, in virtù delle prossime elezioni per i comitati di quartiere. E per far sì che questo strumento possa portare i suoi frutti a Bitonto e nelle frazioni, è importante il contributo attivo dei cittadini. Il Focus Group, che si andrà a formare completo della voce dei cittadini e della politica, rimarrà in carica per 3-4 incontri. Immagino che per fine ottobre, metà novembre, avrà già deciso, spero all'onimità, cosa fare e quindi sarà portato poi all'attenzione del Consiglio Comunale.